Ciao ragazze, allora questo è il primo di tre outfit, quindi questo video è un lookbook ed è in collaborazione con Asus, infatti se vedete si intravede, si vede la cover speciale che ha disegnato uno youtuber italiano, tra l'altro che si chiama Cutie Pie Marzia con il design center di Asus e non è stato difficile abbinare questa cover a tre outfit diversi perché è molto versatile insomma e volevo farvi vedere i colori che cambiano molto, è molto particolare in realtà, mi piace tanto perché ha questi colori che vanno dal rosa al viola al turchese, quasi color tiffany, quindi molto carine poi vista dal lato è praticamente madre perlata e appunto questo è il primo outfit che è tutto su toni tipo terra, toni neutri con appunto marroncino, la borsa color sabbia e con questo giacchino in eco pelliccia che mi piace un sacco indosso sempre gli stivali, vedete, sono in pelle marroni, anche questi sono molto molto comodi come insomma tutto il resto dell'outfit e gli orecchini, questi li conoscete benissimo, sono quelli che indosso sempre 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 naturalmente in uno dei tre outfit dovevo per forza inserirli e questo anellino che fa parte di un set Chanel ma appunto a volte ne uso solo uno questi sono invece gli accessori del secondo outfit e eccoci qua, sono un po' buie queste riprese perché mi sono dimenticata che in Olanda in inverno fa buio velocissimo e molto presto, quindi ecco qua, insomma mi scuso per le riprese così scure ma perdonatemi, spero si riesca a capire comunque bene e questo è un total look black, quindi nero giacchino in eco pelliccia nero borsa scarpe nere e un maxi maglione, anche questo nero e grigio scuro se poi volete vedere altri look di altre ragazze di questa collaborazione potete guardare il link che vi metterò nella descrizione del video e questi invece sono gli orecchini che ho preso Forever 21 li ho pagati poco ma vi giuro li adoro, li uso sempre poi accessori del terzo outfit stavolta un po' più roccheggiante come potete vedere e lì c'è Denver nel background che fa cucù ma non trovavo una posizione comoda questo look è con vestitino appunto verde caldo, giacchetto in pelle appunto borsa in pelle e bracciale Hermes in pelle e stivali in pelle questi sono sopra il ginocchio li adoro, sono i miei preferiti per l'inverno e questo è tutto, bacio grandissimo, alla prossima!